Siamo con il pizzaiolo di Favara Carmelo Pistritto. Carmelo Pistritto ha anche una pizzeria da grigento. Oggi vogliamo parlare di un orgoglio siciliano perché Carmelo Pistritto sarà a Sanremo a preparare le pizze ai big della musica e non solo se è stato selezionato. Una bellissima soddisfazione? Sì, sì, sicuramente una bellissima soddisfazione perché parliamo di Sanremo e quindi parliamo una cosa mondiale. Sarà sicuramente un'emozione bellissima. Purtroppo con il Covid ci sono delle restrizioni dove ovviamente dobbiamo andare a preparare queste pizze con tutte le cautele. La cosa che ad oggi mi sta facendo emozionare è che nel mio paese sono tutto orgogliosi. C'è gente che magari passa dal mio locale, mi stringe la mano e mi fa complimenti perché sono grande soddisfazione. Tra l'altro tu hai un curriculum di tutto rispetto. Hai partecipato a diverse gare regionali classificandoti sempre ai primi posti. Hai partecipato nel 2019 al Boss delle Pizze, la trasmissione di Alice TV e ti sei classificato al terzo posto. E come abbiamo detto, i tuoi compaesani non solo sono orgogliosi di te, ma il segreto della tua pizza qual è? Il segreto della mia pizza è la passione. La passione e la semplicità. Queste due cose ti portano fino in fondo. Hai detto che già dieci anni, seguendo tuo padre, hai appreso appunto l'arte del pizzaiolo. Hai sempre voluto sperimentare cose nuove, però basandoti sulla tradizione. Sì, sì. Allora, tutto è iniziato. Mio padre, essendo nel mondo della ristorazione, io seguivo sempre a lui da piccolino, avevo solo dieci anni, e quindi stavo sempre dietro a banca a guardare i pizzaioli a fare le pizze. Poi man mano, oggi e domani, ho iniziato pure questa strada. Ad oggi sono quasi vent'anni di esperienza. Sì, sono sempre uno che cerca di sperimentare, però rimango sempre nelle nostre tradizioni. La selezione a Sanremo come è avvenuta? Allora, la selezione a Sanremo è avvenuta grazie a un amico, che saluto Vincenzo, che vedendomi appassionato nel mondo della pizza, vedendomi valido e molto appassionato, un giorno mi chiama e mi fa, Carmelo, ma tu vuoi andare a Sanremo a far parte del team food di pizzaioli? Guarda, dico, sono rimasto, sai, dico, pronto, ma dici vero? E' venuto così. Poi ovviamente loro mi hanno fatto delle domande, abbiamo fatto diverse videochiamate vedendomi se ero anche valido e alla fine ce l'abbiamo fatta. Pizzeria da Pistritto, da Grigento a Favara, abbiamo detto, quindi quando riaprirete, nel frattempo ci sono le consegne a domicilio, perché no andiamo ad assaggiare una bella pizza. Certo, certo, vi aspetto, sperando più presto possibile che finisca tutta questa situazione, e vi aspetto da Pistritto. E un bocca al lupo per Sanremo, in attesa di avere nuove notizie da parte tua. Grazie, grazie ancora.